Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi la sesta puntata della carriera di Bobby Fisch. Siamo nel 1959 e Bobby, a 16 anni, si trova a Santiago del Cile per un importante torneo internazionale. Al dodicesimo turno affronterà un giocatore piuttosto conosciuto, il tedesco Herman Pilnik, che è nato in Germania nel 1914, ma a cavallo delle due guerre si è trasferito giovanissimo in Argentina e vivrà in Sud America per tutta la vita. Giocherà 5 Olimpiadi per l'Argentina, ottenendo 3 medaglie d'argento. A fine carriera si trasferirà in Venezuela, dove insegnerà scacchi all'Accademia Militare. Quindi una vita, secondo me, anche piuttosto interessante. Ma ritornando alla partita, Bobby Fischer con i pezzi bianchi, Herman Pilnik col nero. Partiamo! Fischer apre la partita con E4 e Pilnik gioca C5, la siciliana. Cavallo in F3, cavallo in C6, arriva la spinta al centro, D4. C per D4, cavallo ricattura, adesso arriva cavallo in F6. Questo è il setup della siciliana classica. Naturalmente il pedone, come al solito, si difende con cavallo in C3, arriva D6. Alfieri in C4 è l'inizio dell'attacco Sosin, vedete, quindi con l'alfiere è molto minaccioso, minaccioso verso la casa F7, il nero di solito gioca, come ha giocato Pilnik, E6. C'è sulla carta anche la spinta D5, quindi per questo motivo Fischer torna indietro con l'alfiere in B3. Il nero continua con l'alfiere in E7, arrocco corto per il bianco e arrocco corto anche per il nero. Fischer continua con l'alfiere in E3, quindi tutte mosse di sviluppo e il nero continua con l'alfiere di D7. Con F4 Fischer inizia le operazioni sul lato di Re, qui naturalmente Fischer andrà per l'attacco direttamente sul Re. Quindi il cambio dei cavalli in D4, l'alfiere ricattura. Vedete, l'alfiere Campochiaro ha preso il posto del cavallo sulla casa C6 per mettere pressione sul centro. Donne in E2, non soltanto aggiunge la seconda protezione alla casa E4, ma completa lo sviluppo connettendo le torri. Ora in questa posizione la continuazione più interessante per il nero, anche la mossa più giocata al giorno d'oggi, è l'interessantissima B5, non giocata da Pilnik, ma d'altronde eravamo nel 1959. Vediamo come mai B5 è così interessante. Vedete che B5 due volte sotto attacco protetta soltanto da questo alfiere, quindi il pedone si può catturare. Cosa fare adesso per il bianco? Questa B5 è una linea che favorisce il nero, dove il nero ha uno score migliore rispetto al bianco. Adesso il bianco può centralizzare questa torrina 1, quindi con torrina che va in D1, torrina che va in E1, oppure, mossa più giocata, accettare il pedone. Ma vedete che il cavallo aiutava la donna a proteggere il pedone centrale, quindi il cavallo cattura in B5, è vero che ha preso un pedone e ne sta anche minacciando un altro, ma poi alla fine il nero si rifarà sul pedone centrale. Ora per evitare la cattura in A7, il nero temporaneamente cede la coppia degli alfieri, la donna ricattura e il nero ha ripreso il pedone al centro. Vedete, una posizione molto incerta, con il bianco che solo per un attimo riuscirà a mantenere questa coppia degli alfieri, perché il nero con un semplice salto del cavallo, in qualche modo, glieli toglie. E quindi il nero in questa posizione sicuramente ha equalizzato la partita. Ritornando a noi, invece, dopo donne e due di Fischer, Pinnik continua con la seconda mossa più giocata. Anche lui completa lo sviluppo con donne in A5. Ma adesso il bianco con F5 mantiene una forte iniziativa e il pedone non si può catturare. Andiamo a vedere il perché. Perché dopo F per F5 la torre ricattura con tempo, la donna sotto attacco può portarsi all'indietro in D8, ma qui arriva il raddoppio delle torri. Il nero rimarrà completamente passivo con il bianco che invece può manovrare per dare il colpo del KO, pensate per il computer, alla mossa A15 è già più 4. Ora, come continuare per il bianco? Donna D3, con l'idea di portare la donna in G3, inchiodare il pedone uno dei difensori del cavallo sotto attacco, sembra una delle continuazioni più logiche ed anche più forti. Quindi il pedone non si può catturare perché l'attacco diventa subito vincente sulla colonna F. Quindi, ritornando a noi, dopo F5, Pinnick giustamente gioca E5. L'alfiere sotto attacco si porta indietro in F2 e qui arriva una mossa che strategicamente è giusta, perché vedete Pinnick vuole portare questo alfiere in B6 per cambiarlo, poi probabilmente per creare forse una debolezza sulle case scure, su questa diagonale. Ma vedete che anche visivamente, a parte il fatto che è una mossa molto lenta, ma anche visivamente c'è qualcosa che non funziona, perché è lenta, disconnette le torri, lascia in difeso il pedone centrale che è il pedone arretrato e quindi Fischer continua con le sue manovre. Torre in A che va in D1, pedone sotto attacco, arriva alfiere in B6. Ora, il pedone si può catturare con la torre, ma giustamente Fischer preferisce non catturarlo, ma continuare con l'attacco sul lato di re. G4 è la continuazione più forte, ritorniamo indietro di una mossa, andiamo a vedere che succede se il bianco cattura il pedone. Niente di che, ma la situazione si blocca un po'. Dopo torre cattura in D6, è una mossa che non dà grandi vantaggi al bianco, anzi perde quasi tempo, perché arriva a torre in A che va in D8, il cambio torre in D8 favorisce il nero, che praticamente equalizza la partita, forse sta anche meglio controllando questa colonna centrale, questo sacrificio di qualità molto rischioso, perché è vero che la donna può dare scacco, ma dopo non è semplice continuare, probabilmente la migliore continuazione è torre in D3. Adesso cambio degli alfieri, la torre ricattura, torre in D4, vedete, blocca un po' la situazione con sostanziale equilibrio. Ritorniamo a noi, perché Fischer invece che ha sempre studiato con particolare attenzione, ha sempre calcolato benissimo questi attacchi sul re, contro la siciliana, contro la siciliana del dragone, continua appunto con G4 mossa migliore. Adesso G5, pare ovvio che sta per arrivare, e quindi Pilnik controlla questa casa G5 giocando H6, ma Fischer va all-in, gioca H4, e quindi cavallo in H7. Torre in D3, quindi vedete la torre, non soltanto forse ci potrebbe essere anche in futuro, una centralizzazione anche della seconda torre, ma più che altro questa torre vuole muoversi sulla terza traversa, vuole attaccare anche lei direttamente il castello del re nero. Il re si sposa in H8, arriva anche G5 supportato dal pedone. Ora, vedete che ci sono due controllori, ma di nuovo questo pedone non si può catturare, sono posizioni difficilissime da difendere. Infatti Pilnik se ne accorge, gioca al fiera in D4, ritorniamo indietro, vediamo che succede se adesso il nero cattura. H per G5, H per G5, qui, e allora, già questa prima cattura è un errore. Adesso non si può veramente catturare, perché dopo cavallo cattura in G5, il matto è già forzato, arriva donna in H5 con scacco, si cerca di salvare il cavallo, ma arriva la torre, e c'è il matto forzato in H7. Quindi, ritorniamo a noi, G5, Pilnik giustamente non cattura, tenta di consolidarsi con alfiere in D4. Il re si sposta in H2, arriva alfiere in B5. Ora, naturalmente, c'è il cavallo, quindi, cavallo cattura, la donna ricattura, inchiodando la torre. Quindi, Pilnik vuole rallentare l'attacco di Fischer. Ma qui arriva C3, l'alfiere viene cambiato sull'alfiere in F2, la torre ricattura. Ora, non so per quale strano motivo Pilnik gioca donna in B6, probabilmente perché lui ha capito che Fischer poteva semplicemente schiodare la torre giocando Fischer, donna in E3. Quindi si porta Pilnik su questa diagonale scura, ma alla fine, poi Fischer riuscirà semplicemente a portare la donna in attacco. Quindi, prima torre in G2, toglie la torre, perché lui vuole portare via la donna, quindi toglie la torre dall'attacco della donna nera. e Pilnik tenta una reazione al centro, ma qui purtroppo non ci sono spinte di rottura sufficientemente forti, è perché qui il bianco ricattura, anzi, cattura subito con l'alfiere, arriva la torre. Qui probabilmente ci sarà un sacrificio di qualità per tentare di aprire le linee, ma la situazione è già disperata, perché, visto che la torre non è più sotto l'attacco della donna, Fischer porta la donna in H5. arriva G6, la donna cattura in H6 e inchioda il cavallo, e qui, come dicevamo, sacrificio di qualità. Si ricattura col pedone, arriva E4 che attacca la torre. La torre si porta in G3, ora vedete H5 sta arrivando per spaccare tutto. Vediamo che succede se in questa posizione il nero tenta il controgioco con il pedone passato. Interessante notare perché Pilnik qui ha tentato giustamente di difendersi, ma che succede se il nero adesso spinge in E3? Dopo la spinta E3 supportata dalla donna, però attenzione perché vedete poi non si potrà spingere 2 subito perché c'è la torre, andrà portata la torre dietro il pedone passato. Guardate quanto è forte l'attacco del bianco. Arriva H5, torre in E8 per supportare il pedone, ma qui viene spaccato tutto. H cattura in G6, pedone F ricattura e il pedone F ricattura. Ora qui si minaccia il banto in 1, quindi bisognerà proteggere il cavallo con torre in E7, arriva torre in E2. Il re si sposta schiodando il cavallo e qui arriva il raddoppio delle torri. Donna in C7 con scacco protegge anche la torre, il re si porta in G2 e il nero cambia le torri naturalmente per non perdere il pezzo. Torre ricattura, qui si minaccia il matto, quindi il cavallo si sposta, ma torre in E8 arriva lo stesso. Si minaccia un nuovo matto in F8, donna in G7 per cambiare le donne e ma il problema è che si era creato un pedone passato fortissimo che il bianco semplicemente avanza anche se si cambiano le donne. Poi il cavallo inchiodato non c'è niente che possa fermare il pedone passato. Quindi guardate che bellissimo attacco semplice che quasi quasi si gioca da solo. Ora direte voi saremmo noi in grado di giocarlo? Non lo so, però più semplice di tanti altri, più logico di tanti altri attacchi incredibili che vediamo nelle nostre partite. Ritorniamo a noi, quindi arrivato a questo punto Pilnik che tenta di difendersi non sfruttando come controgioco il pedone passato ma di nuovo inchiodando una torre quindi per rallentare le operazioni di Fischer ma Fischer continua direttamente con H5. Torre in G8 a supportare questa casa G6 ma qui il pedone cattura in G6 pedone F ricattura Fischer crea il pedone passato. Mossa 32 pensate in questa posizione anche con la migliore difesa c'è già il matto forzato anche se in 12 Pilnik giocherà una delle continuazioni purtroppo per lui peggiori. Cosa giocherà? Catturerà con la donna in D5. Mossa 33 al bianco siamo arrivati al nostro quizone. Quindi la domanda per voi è cosa giochereste voi al posto di Bobby Fischer? Mettete pure in pausa se volete e da voi la parola. Ritorniamo a noi perché questo è un classico proprio tema di matto Fischer lo trova subito e sacrifica la donna in H7 con scacco. Vedete soltanto il re che non si può muovere può ricatturare ma Pilnik non ricattura nemmeno perché in questa posizione abbandona perché dopo che il re ha vinto la donna torre in H3 e subito scacco matto. Vedete il re non può più muoversi. Ritorniamo però a questa F6 quindi andiamo invece a vedere la migliore difesa e il matto in 12 oppure il matto in minor mosse possibili se alcune di queste si riveleranno un po' troppo assurde. Allora la migliore difesa visto che il problema è il sacrificio vedete qui in H7 poi il matto quindi la migliore continuazione donna in C7 quindi a proteggere chiotetutto mantiene l'inchiodatura sulla torre e quindi il bianco probabilmente giocherà re in H1 per schiodare la torre B5 per tentare un attacco di minoranza questa mia idea non si può giocare per nulla perché guardate che succede succede che arriva torre in H3 e in qualsiasi caso di nuovo c'è il sacrificio di donna in H7 vedete B4 donna cattura donna cattura sacrificio di torre e arriva l'altra torre torre in H2 scacco matto quindi B5 non si può giocare quindi in questa posizione non si può cercare nessun controgioco bisogna soltanto fare spazio al re quindi ritornando al re in H1 che consentirà quindi al bianco di giocare per dare il matto non si può fare subito spazio perché vedete si perde la protezione del pedone quindi la mossa da giocare è prima donna in F7 proteggere il pedone e poi spostare la torre ora però c'è un altro elemento debole che viene subito attaccato torre in E3 quindi la torre del nero non soltanto si sposta per fare posto al re ma ormai che c'è protegge anche il pedone centrale ma arriva torre in H2 qui non ci sono mosse buone quindi conviene fare meno danni possibile il nero giocherà A6 ma ora che la torre non c'è più si gioca il raddoppio delle torre sulla colonna H non c'è più modo di difendere il nero potrà continuare con l'astuta torre in E7 sembra impresa ma vedete che questa torre non si può catturare perché addirittura se qui il pedone cattura è il nero che con donna in F1 dà il matto in 1 quindi fantastica idea magari in una blitz questa idea difensiva ma naturalmente qui a tempo lungo nessuno catturerebbe questa torre e quindi cosa si giocherebbe? si giocherebbe donna cattura in H7 con scacco la donna ricattura qui adesso dopo che la donna ha catturato ed è rimasta inchiodata veramente si può catturare la torre e qui la donna ormai è persa conviene almeno catturare una torre torre ricattura con scacco il re si sposta ma qui il pedone è diventato donna E3 non serve a niente donna in H8 quindi perché non serve a niente perché qui ogni mossa non serve più c'è il matto forzato in 2 perché il famoso scacco da dietro è sempre fortissimo il re è costretto mossa unica a portarsi in F7 torre in H7 scacco matto quindi vedete siamo ancora nel 1959 quindi con un Fisher ancora a 16enne ma già si iniziano a vedere i grandi attacchi di Fisher contro la siciliana che tanto lo hanno reso famoso e che spero piacciono tanto anche a voi oggi pomeriggio inizia il Magnus Carlsen Invitation al nuovo appuntamento del bellissimo Champion Chess Tour quindi da domattina lo seguiremo insieme analizzando tutte le migliori partite non scordate quindi di iscrivervi al canale per guardare insieme tutti i migliori tornei di scacco per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie a tutti grazie a tutti